Per prima cosa polverizziamo lo zucchero con la scorza grattugiata del limone. Azionate le bimbi 10 secondi, velocità 10. Portiamo tutto sul fondo, mettiamo la farina, il burro, il lievito, lo yogurt e il pizzico di sale. Azionate il bimbi 20 secondi, velocità 5. Trasferite il composto nella teglia, così. Premiamo, pian piano, e formate i vostri biscotti. Fatti riposare mezz'oretta nel congelatore e successivamente inforniamo a 170 gradi, forno precedentemente preriscaldato statico, per 15 minuti. Grazie per la visione!